e viva e viva subitissimo immediatamente e siccome sono un buon pontefice del malanero pospongo anche la pubblicità in maniera tal poi per se non fate l'abbonamento se fate l'abbonamento vi saltate tutte le pubblicità tranquillamente però eccoci qua in questa nuova live dopo che l'altra è finita un secondo fa in questa seconda live quindi della serata finché ho le forze andiamo a vedere a leggere e tradurre la guida per princewalker a xalan perché l'annuncio sono in pausa per 5 minuti sì gli annunci non che me ne fai uscire un'altra da due secondi però la guida per princewalker a lost caverns of xalan lost caverns lost caverns of xalan un sacco di s ci ho messo così lost caverns of xalan lost caverns of xalan dove sei dove sei devo trovare la guida in tutto ciò no non la sto trovando ma adesso la trovo ora la guida per princewalker a xalan è molto lunga adesso vi dico quanti caratteri è all'incirca già il fatto che ci sto mettendo mezz'ora praticamente per far scendere tutto quanto forza un po dai che c'è madonna quanto cazzarola è lunga è un artbook intero praticamente hanno fatto il secondo artbook di xalan e beh non male secondo me il numero di caratteri è lo stesso dell'artbook di xalan che era uscito nel 2018 ecco sono arrivato in fondo no 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 vabbè lasciamo perdere e contare i caratteri perché è impossibile sappiate solo che è veramente molto lunga motivo per il quale sarà la protagonista di diversi di diversi esplorando della settimana c'è delle varie settimane oggi la cominciamo ma la concluderemo chissà quando potenzialmente tra un mese forse anche di più vediamo di mettere una bella immagine di xalan di lost caverns of xalan ovviamente mettiamo un'immagine di oher axonil e cominciamo quindi la nostra lettura e traduzione sempre in direct vi ricordo ancora una volta di fare che con un abbonamento una sub qui sul canale potete ottenere oltre al fatto di saltare la pubblicità anche la possibilità di richiedere una live dedicata all'argomento che preferite non solo potete anche scegliervi il giorno praticamente in cui la si fa orario, giorno, siete voi i padroni del canale per quel giorno praticamente e niente appunto e cominciamo quindi dopo questo annuncino di ricordatevi di fare le sub a cominciare la lettura le caverne perdute di xalan è ambientato sul piano di xalan è una serie ambientata sul piano di xalan all'incirca un anno dopo la fine degli eventi di march of the machine grazie agli eventi raccontati nella storia i 300 300 300 passi sotto il sole e altri fra la vortex di march of the machine sappiamo che l'impero del sole è stato in grado di sconfiggere i firexiani pagando un carissimo costo ma cosa è successo al resto del piano? questa guida offre una grande una visione in grande estile diciamo in grande in grande di tutto xalan di tutto il piano di xalan nel passato e nel presente incluso gli eventi che avvengono durante appunto lo scambio è stato in grado di xalan aia c'ho un torcicollo che non mi abbandona nelle puntate precedenti di xalan i blog in set di set originali di xalan e rivali di xalan raccontavano la storia della ricerca e della scoperta della riscoperta della città dorata orazca una mitica città perduta fatta d'oro fatta in tremente d'oro che nascondeva un potente artefatto il sole immortale le quattro fazioni rivali di xalan gli umani dell'impero del sole i pirati della coalizione di bronzo i tritoni degli araldi del fiume e i vampiri della legione del vespro hanno tutti corso per hanno vissuto un'avventura per cercare per trovare orazca e reclamare il sole immortale per se stessi per soddisfare i loro vari desideri i loro vari desideri di conquista le quattro fazioni sono state in grado di raggiungere orazca tuttavia nessuno di loro è stato in grado di reclamare il sole immortale per se stessa Tezzeret un planswalker che serviva a Nicol Bolas rubò l'artefatto e lo trasportò via dal piano alla conclusione di quella storia ciò nonostante orazca è rimasta un grande premio per l'impero del sole il blocco originale di xalan finiva con l'impero del sole restaurato che controllava xalan e che controllava xalan senza alcuna opposizione l'ixalan quindi il continente di xalan senza alcuna opposizione e si preparava per dare per muovere guerra al continente di torreson per vendicarsi del regno dei vampiri che aveva cercato di conquistare le loro terre l'invasione firexiana peraltro sul canale trovate tutto l'artbook di xalan numero 1 un anno prima dell'inizio di lost cavern of xalan i firexiani una civiltà di cyborg interplanari di orrori cyborg interplanari che volevano dominare massacrare le specie organiche del multiverso ha lanciato a lungo pianificata l'invasione del multiverso infiniti piani sono stati attaccati simultaneamente da orde di orrori biomeccanici e xalan non fece eccezione nessuna parte della superficie del piano attenzione della superficie del piano è stata risparmiata dall'invasione firexiana sia entrambi i più grandi continenti ad oggi conosciuti xalan e torreson a ovest xalan ad est torreson l'europa torreson e le americhe yalan hanno sofferto terribilmente non lo dico così per dire torreson è effettivamente ispirato ai conquistadores quindi all'europa del 500 4-500 mentre l'yxalan è ispirato alle società del centro america mesoamericane quelle che noi chiamiamo le civiltà precolombiane gli aztechi maya incas e altri quelli che a scuola ti insegnano c'erano gli aztechi c'erano gli incas e c'erano i maya probabilmente erano un sacco di civiltà di più però il calendario del millennio non mi ricordo se c'è qualcosa che che non mi ricordo se ne parla la guida stessa può darsi di sì ci arriveremo però nel caso perché se ne parla la guida è in fondo la guida diciamo che è divisa in torreson e ixalan quindi la superficie prima e dopo l'invasione di firexia e poi c'è tutta una parte che racconta invece c'è il nucleo del piano quindi il terzo popolo e quello che abbiamo scoperto le caverne perdute appunto di ixalan credo che ci arriveremo al calendario del millennio credo che ci sia qualcosa di dedicato a un trafiletto dedicato al calendario del millennio per ora non mi ricordo che cosa fosse credo che fosse semplicemente un modo per cui grazie al quale gli abitanti gli abitanti del nucleo tenevano i loro i giorni insomma contavano gli anni era un calendario e basta e letteralmente c'era scritto gennaio febbraio ogni tanto appariva una una donnina una dinosaura nuda anzi perché era un calendario quindi sappiamo tutti come sono fatti i calendari dei gommisti di Ixalan esatto gli Oltec esattamente gli Oltec sono gli abitanti del nucleo il quinto popolo quindi hanno sofferto terribilmente sia Ixalan che Torison secondo che oggi sono particolarmente raffreddato e allora su Ixalan nel contenente di Ixalan le giungle hanno tremato e sono state bruciate assediate da biomeccanici da orrori biomeccanici l'avanguardia firexiana è atterrata diciamo nei pressi abbiamo detto che sono arrivati sui sottomarini è approdata nei pressi di Aztocan la città di Aztocan di cui abbiamo parlato sicuramente non esplorando in Ixalan sorprendendo l'impero del sole e sconfiggendo e sopraffacendo i difensori impreparati nel corso di giorni decine di migliaia di cittadini firexianizzati dell'ex impero del sole e molti reggimenti di Quetzacama ossia di guerrieri a cavallo di dinosauri erano pronti a marciare sul resto dell'impero la campagna che ha seguito che ne ha seguita ha portato i reggimenti dell'impero del sole a combattere una apparentemente infinita marea di loro commilitoni firexianizzati e le forze imperiali si sono trovate a combattere in una costante e costosa e demoralizzante serie di manovre e piccole incursioni le battaglie campali ci sono stati piccoli momenti di difesa diciamo piccole battaglie intanto intanto piccole scaramucce in questo modo però nonostante tutto nonostante sia stata molto costosa questa serie di manovre e queste scaramucce siano costate tantissimo queste scaramucce hanno permesso alla capitale imperiale Pachatupa di prepararsi all'attacco firexiano la decisione imperiale di difendere solamente la capitale ha esposto il resto dell'impero ai firexiani le forze delle macchine si sono impadronite delle città al di fuori del nucleo imperiale cioè dei pressi della città della capitale e della sua provincia diciamo circondando infine la capitale assediandola guidati da Watley e da un commando guidato da Watley è stato inviato in una disperata missione verso Ratska insieme agli insieme ad alcuni difensori imperiali i migliori difensori imperiali di Pachatupa e i cittadini migliori dell'impero per cercare di salvare il si il scugio di Watley era presente Inti era presente era presente si 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 e per cercare di salvare l'impero del sole e il tutto l'Hixan dal cadere nelle griffine dei firexiani questi eventi sono stati raccontati nella storia 300 steps under the sun quindi 300 passi sotto il sole in altri fra Vortex e guida e la e saranno poi scritte e sarà maggiormente approfondita più in là in questa stessa guida i vampiri i vampiri di alta torreson nel frattempo la monarchia che governa il continente di torreson hanno affrontato i firexiani che hanno attaccato le loro città sebbene la loro esperienza dell'invasione è stata molto meno catastrofica rispetto a quella vissuta dai cittadini dell'impero del sole il dopo guerra tuttavia potrebbe essere molto più disastroso più in là vedremo in questa stessa guida maggiori dettagli su quello che è successo ad alta torreson allo stesso modo altre persone altri abitanti di Ixran ossia i pirati della colizione di bronzo e gli araldi del fiume hanno affrontato i firexiani anche i loro sforzi sono raccontati più in là in questa guida la ritirata firexiana ha trasformato Ixran in un nuovo piano ma in un piano del tutto nuovo ma antichi un nuovo piano tutto nuovo nel senso che sembrava essere tornata alla pace tra vampiri e umani tra le due fasi tra le due parti dei due continenti tra i due lati dell'oceano ma vecchie nemicizie stanno cominciando a risalire a farsi sentire e vediamo e vediamo quindi Ixran oggi i popoli della superficie i popoli della superficie di Ixran quindi non del piano Ixran ma del continente Ixran lo so ci hanno avuto poca fantasia che dovevamo fare però io non ho solo immagini del nucleo brutto questo vabbè cerco delle immagini della vecchia Ixran ecco mettiamo l'Atlapatani o come si chiama l'impero del sole l'impero del sole è un orgoglioso antico potere imperiale che domina il continente di Ixran composto da quattro maggiori città-stato Paciatupa Azzocan che fa sempre ridere Azzocan Azzocan Otepec Eurasca e centinaia di villaggi minori fortezze e cittadine nel mezzo l'impero del sole è ricco possiede una enorme ricchezza materiale una bellezza naturale terre arabili biodiversità e diverse popolazioni e un'enorme quantità di popolazione è ricco per quanto riguarda la popolazione la biodiversità le terre arabili coltivabili bellezze naturali e ricchezze materiali l'impero ha sofferto un enorme numero di vittime durante l'invasione firexiana ma il mood nazionale è di di unità e risolve è di unità senza dubbio nato nato dall'idea di un non detto desiderio di muovere o di superare gli orrori dell'invasione per paura che una di ciò che potrebbe accadere sotto la guida di un nuovo imperatore e il suo consiglio di consiglieri appunto e guidato dalla sua vittoria nei confronti dei firexiani per quanto essa sia stata costosa l'impero si è rivolto verso il suo antico nemico i vampiri di alta torreson i primi invasori il nuovo sole l'impero del sole nelle caverne perdute di Ixalan è guidato da un imperatore bambino Apatstek Intli IV che è ben desideroso di scrivere il suo nome nelle leggende suo padre Intli III è stato assassinato gli Apatstek Intli III è stato assassinato dagli agenti dormienti firexiani durante i primi giorni dell'invasione come suo padre Intli IV è circondato da sacerdoti amministratori consiglieri e generali che cercano di che gli che portano avanti il suo impero e fanno funzionare il suo impero finché Intli IV non avrà l'età per governare da solo il ragazzo il bambino servirà come una figura di ah ho tolto il cuscinetto di tutto ciò assolverà il suo compito di figura diciamo di unità nazionale è una figura di facciata è un comandante di facciata un imperatore di facciata che ispira una visione di forza e in grado di ispirare tutti gli abitanti dell'impero del sole la morte di suo padre la morte la morte del padre appunto di Apatstek Intli IV ha reso il bambino molto ben voluto dalla popolazione perché lo vedono come il futuro l'incarnazione del futuro dell'impero come la terra su cui domina deve crescere per affrontare un nuovo mondo dove nel bene o nel male il multiverso è oggi una realtà quindi su Ixalan sanno che esiste il multiverso che esistono i Prince Walker esistono altri mondi il regno di Intli IV è governato da una serie di consiglieri che organizzano la ricostruzione dell'impero e pianificano una ripresa della della campagna militare dell'ultimo imperatore contro Torreson prima della invasione firexiana l'impero del sole è stato infatti coinvolto in un protatto conflitto con i vampiri di Torreson i consiglieri imperiali hanno quindi soffiato sul fuoco della rivincita sul sentimento della rivincita della vittoria mutilata vi ricordo di niente per sì della vittoria contro un sentimento revancista per hanno fatto quindi soffiato sul fuoco del sentimento revancista appunto della rivalsa e della vendetta anche per giustificare la ricostruzione e per distruggere ogni forma di pacifismo e isolazionismo elementi isolazionisti e pacifisti del reame nella speranza di animare la popolazione contro queste forze e far sì che appunto l'imperatore riprenda la campagna di suo padre si sono formate quindi diverse fazioni all'interno dell'impero dell'impero e sebbene la base dell'impero del sole rimanga forte coesa e motivata il malcontento cresce nelle camere più interne della sua nobiltà l'imperatore bambino è malleabile e si è già guadagnato il cuore del popolo la battaglia politica riguardo la direzione che dovrà intraprendere questo stato risorgente ossia una direzione di guerra o di pace è solo all'inizio e l'imperatore è il premio da vincere il futuro dell'impero nonostante gli orrori dell'invasione le persone dell'impero del sole sentono di avere molto di avere un futuro brillante davanti a loro sono ancora vivi e sebbene il il loro sono ancora vivi all'interno di un mondo completamente cambiato e il vecchio mondo è morto con gli ultimi dei firexiani con l'ultimo dei firexiani prima dell'invasione l'impero del sole era una stratificata e una società stratificata e divisa in diverse caste dove sacerdoti e guerrieri formavano la nobiltà e la casta appunto nobiliare la casta superiore più importante che comandava sopra i mercanti e sui mercanti e sui paesani sui plebei dopo l'invasione all'indomani dell'invasione quando no durante l'invasione quando ogni persona che potesse maneggiare un'arma è stata guidata all'interno del conflitto nella difesa è stata impiegata nella difesa dell'impero dopo che durante l'invasione appunto tutti coloro che erano in grado di imbracciare un'arma sono stati coinvolti nella difesa dell'impero adesso sono in pochi coloro che desitano tornare alle alle vestigia del vecchio mondo alle tradizioni del vecchio mondo troppe persone hanno combattuto troppe battaglie sanguinose per non guadagnarsi le ricompense della sopravvivenza perché semplicemente non è anche gli archeorocca c'è andato solo Quintorius perché gli altri non ci avevano voglia Quintorius è l'unico che ha dato retta a Saini perché voleva esplorare l'impero delle monete che a quanto pare sono i suomori ne abbiamo parlato in no no è asceso lui è asceso durante March of the Machine e è diventato un planeswalker durante March of the Machine e poi dopo un anno è andato appunto in vacanza studio tra virgolette in Erasmus su X-Lan e ha cominciato poi a fare ricerche su questo impero del sole dell'impero delle monete che a quanto pare era diffuso su diversi piani ne abbiamo parlato in sintetizzando l'osca verso X-Lan c'è tutta la storia sintetizzata appunto il riassunto quindi è appunto solo lui è andato gli altri archeorocca si sono fatti i cazzi d'oro e tutti gli altri stavano a Strixhaven ignorando completamente ciò che si poteva nascondere su X-Lan quindi appunto dopo l'invasione firexiana invece gli abitanti dell'impero del sole hanno cominciato a reclamare un po' delle nuove delle novità insomma dei cambiamenti a richiedere dei cambiamenti sacerdoti e guerrieri guidano ancora e ancora proteggono l'impero ma non sono più lavori occupazioni aperte solamente ai nobili a chi è di nobile famiglia a causa del vuoto di potere effettivamente della scarsità di popolazione causata dall'invasione firexiana queste professioni sono state democraticizzate le porte delle loro accademie e dei loro templi sono stati aperti anche ai plebei e a quelle stesse persone che appunto le hanno difese e che adesso reclamavano la possibilità di entrarvi certo rimangono ancora vecchi corpi militari di sacerdoti di militari e sacerdoti aristocratici ci sono diversi sacerdoti e soldati di nobile stirpe ma i ranghi di queste professioni sono oggi dominati dagli imperiali senza alcuna forma dai plebei insomma che non hanno alcuna forma di alcun sangue nobile dentro di loro che è interessante comunque cioè ci racconta un sacco della società americana comunque questa roba è un po' una riscrittura se vogliamo della storia americana e ci racconta quanto per gli americani sia importante anche il fatto che i nobili non governino come nella vecchia Europa ci racconta tanto gli effetti rinvigorenti di questa inclusione hanno rivitalizzato l'impero i sacerdoti vagano per l'impero diffondendo la grazia il potere e l'acume del 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 sole tripartito nella lingua volgare degli nella lingua di nella lingua volgare azokan nella lingua dell'impero del sole si chiama azokan e a quanto pare i nobili parlavano una forma non volgare diciamo l'equivalente del nostro latino su culture sterile si si ma in realtà è da un bel po' ma ci sta alla fine fanno un po' un mix diciamo si è un po' diciamo da da Kamigawa in poi hanno visto che la cosa poteva funzionare se vogliamo anche ravnica pur essendo un mondo made in magic è ispirato comunque molto per culture alle culture dell'est europa i moroi i nomi slavi alara è molto ispirata comunque da alcune cose pure lì no ma dipende dipende se sono fatti bene cioè qui il riferimento è storico per esempio non è una mitologia è completamente storico cioè in parte anche la mitologia nel caso degli old tech ok però è fatto bene perché c'è comunque un condire con prendere un po' la mitologia e riscriverla in salsa magic io ora non sono un esperto non so assolutamente nulla quasi nulla di mitologia mesoamericana però per esempio sapevo che gli aztechi veneravano il dio quetzalcoatl che era in teoria il dio del il dio del serpente più amato della luce della la creatura benevola diciamo uno degli dei maggiori mi pare in realtà potrei stare dicendo cazzate ragazzi non prendete le mie parole per vere io sto basandomi su ricordi se volete seguire qualcuno che ne sa di mitologia seguite su youtube mitologicamente grivit perché è un canale veramente straconsigliato ragazzi quella è una persona che ne sa il vittorio mitologicamente grivit è una persona che ne sa a pacchi perché sta roba la studia non è un cretino come me che sta parlando in live però appunto la dal poco che so la cultura degli old tech è ispirata alla cultura mesoamericana e alla mitologia mesoamericana ma non è uno a uno sì c'è un serpente piumato ok ma è uno degli dei aglatzotz probabilmente il concetto di aglatzotz di questa cosa che ogni tot di millenni il mondo si resetta è qualcosa che probabilmente faceva parte della cultura mesoamericana io credo però non non è esattamente quella mentre se noi prendiamo valky valky è letteralmente il dio degli inganni è letteralmente loki solo che è in chiave magic è nel mondo di magic ma l'hai trasportato nel mondo di magic è come se prendi zeus e lo trasporti nel mondo di magic e questo non è stato fatto con teros eliod ha alcune caratteristiche di zeus ma non solo ha alcune caratteristiche di apollo ha alcune caratteristiche di tante altre divinità erebos non è ade 1.0 copia incolla è una creatura molto diversa tassa non è che è poseidone ok ha il bidente e poseidone aveva il tridente l'adea del mare e poseidone ha il dio del mare però ha un sacco di differenze poi col poseidone non sono la stessa cosa che eranos non è zeus lancia i fulmini ma non è zeus se tu vuoi fare zeus 1.1 prendi un dio gli fai lanciare i fulmini lo fai scopare come un riccio comunque dici che non c'è un sacco di figli ci metti il fatto che tra questi figli ci sono un sacco di semi dei ce ne metti uno super forzuto che è Ercole e hai fatto bravo ok bravissimo bene qual è stato il tuo lavoro ho detto che è legato al Manabianco bravo wow ora si che hai fatto un lavoro eccellente ora si che hai creato un personaggio interessante a cui potrò affezionarmi non hai assolutamente preso una creatura di una mitologia e l'hai messa nel mondo di Magic è come se prendessi Elenda per dire non è il Dio cristiano è una santa se vogliamo ma anche nel suo essere santa venera una questione molto diversa dal Dio cristiano non esiste il Dio cristiano in Magic esistono gli angeli che fanno parte della mitologia cristiana e ebraica ma non sono uno a uno gli stessi angeli che erano nella Bibbia o in altri testi sacri delle religioni abramitiche non sono uno a uno esattamente quello non c'è un paradiso capito è quello che Caldheim sbaglia Caldheim prende l'equivalente degli angeli e li fa essere messaggeri divini punto invece in Magic l'angelo è una creatura che si presta a tantissimi ruoli molto diversi anche il ruolo di messaggero divino o comunque divinità egli stesso talvolta ma non è sempre uguale in Caldheim questo non avviene in Caldheim è 1.0 è prendere è come se prendi il piano ispirato alla tradizione cattolica ci metti Dio che ha la barba e Satana che ha le corna salutiamo tutti gli amici cattolici che ci seguono o comunque tradizione cristiana è come se vuoi fare un piano ispirato alla commedia dantesca e che cosa fai fai esattamente tutti tutti i gironi illustriosi con il vento che li sferza e ci fai la carta di Paolo e Francesca e poi ci prendi il Satana che è la creatura leggendaria di Lucifero che sta nel ghiaccio nell'ultimo girone e poi c'è il conte Ugolino e c'è sta Cerbero capite che tu fai questa cosa e hai occupato qualcosa di esistente mentre invece potresti fare qualcosa di molto più intelligente Tiago Chan mi sfugge Tiago Chan fare qualcosa più intelligente come effettivamente hanno fatto ossia dire noi abbiamo un'idea dell'inferno la cultura religiosa cristiana ha l'idea dell'inferno un posto di tormento e punizione eterna fatto di fuoco e di orrori e mostri che tormentano le persone e se lo trasportassimo in magic e se invece di essere l'inferno che punisce i peccatori punisse un'altra forma di peccatori e se a venire puniti fossero gli artefici come Urza e Mishra che hanno distrutto il mondo e quindi hanno creato hanno commesso un peccato estremo e quindi meritano la dannazione eterna ed ecco che nasce Firexia il concept di Firexia è quello all'inizio è l'inferno degli artefatti è l'inferno dantesco ma con gli artefatti ed è questo che è bello di magic tu prendi un concept e lo manipoli per renderlo simile ma differente non fai uno a uno cosa che invece in Caldheim secondo me è successa poi ripeto le mie conoscenze sono minimali ragazzi miei basatevi di nuovo su prendete sempre persone che ne sanno più di me io parlo c'è Mondial Trove esatto cioè Mondial Trove va bene che tu mi prendi un personaggio ed è lui perché boh basta non importa ok l'hai fatto perfetto perché è una citazione basta ma può funzionare come espansione perché tu mi stai facendo un omaggio ma se tu devi prendermi un set ispirato al Signore degli Anelli e me lo fai esattamente identico con gli stessi con le stesse creature diventa il set del Signore degli Anelli capito non so se sto riuscendo a spiegare scusate se ogni tanto torno su calda e sul fatto che io non ami quel piano però mi sembra che è un po' così la cosa c'è stato chiaramente un minimo minimo e poi chiudo l'argomento un minimo di rielaborazione c'è stato ma è veramente un lavoro minimo senza nulla togliere agli autori wizard che sicuramente si sono spaccati il muso contro quelle cose però il fatto che tu hai fatto un piano dei vichinghi e da cosa è caratterizzato dal fatto che sono vichinghi stereotipatissimi ci manca solo l'elmetto con le corna il metal perché sono scandinavi quindi il metal e poi altri stereotipi simili un conto è che fai Ravnica Marders a Carlo e dici ok facciamo sta cosa che sono tutti detective quindi hanno il cappellone e l'impermeabili l'impermeabili lol citazione easter egg dai famola così però non è il tuo intero mondo è una fase del tuo mondo diciamo ok scusate mi sono lasciato trascinare dal dal discorso stupido stupido caldaim stupido sexy caldaim dieci minuti di rent su caldaim e comunque dicevamo che appunto esistevano diverse due lingue il volgare azokan e l'azokan invece maggiore diciamo superiore non volgare e quindi i sacerdoti e i guerrieri inizialmente i sacerdoti in teoria diffondevano le loro parole fino ad allora fino all'invasione firexiana in alto azokan quindi nella versione importante nel latino diciamo da un certo punto in poi quando dopo l'invasione siccome i nobili iniziarono a scarseggiare quando i plebei iniziarono a diventare sacerdoti diffondono le loro idee le loro conoscenze sacerdotali nella lingua di tutti i giorni nel nel volgare azokan che tutti loro parlano fin da quando sono nati e che capisce e che portano quindi la gente a capire meglio piccolo discorso storico tra l'altro è il motivo poi chiudo una parentesi piccola 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 motivo per il quale la chiesa cattolica a un certo punto ha detto scusate aspettate forse è meglio se facciamo la messa in italiano anziché in latino cioè in italiano in Italia in francese in Francia nella lingua del paese anziché in latino che lo conoscono in due stronzi magari ci capisce qualcosa qualcun altro perché doveva appunto reinventarsi e diventare più di massa cultura di massa anni 60 del 900 salutiamo tutti gli amici cattolici che ci seguono nessun rancore verso di voi in particolare o solo rancore verso determinati sacerdoti di un certo tipo dopodiché appunto questa cosa mi sono perso a comunità al di fuori delle quattro città stato hanno hanno costruito hanno fatto hanno costruito dalle ceneri dell'invasione costruendo nuove infrastrutture con il supporto imperiale lavoratori collectives quindi diciamo le gilde le le i collettivi diciamo i sindacati e dei lavoratori e gli agricoltori si sono diffusi in tutto l'XRAN lavorando per pulire il piano dai rimasti dall'olio rimasto inerte e dai resti firexiani lavorando per ristabilire e ripopolare città e villaggi distrutti dell'invasione così come riabilitare le antiche giungle i laghi i campi e i fiumi che hanno sofferto durante l'invasione l'armata imperiale un tempo un tempo un corpo di soldati appunto governati da calcificati comandanti di sarango nobiliare quindi precisi e dritti per dritti è adesso guidata da intelligenti coraggiosi e consumati ufficiali che hanno fatto la guerra hanno fatto la guerra hanno fatto la guerra e molti di loro erano in un tempo ignobili soldati che sono stati hanno avuto delle promozioni sul campo durante per essersi per meriti ottenuti durante l'invasione scusate piccola poi non torno più sull'argomento piccola ultima nota di coda ovviamente quello che ho detto di Calda è la mia opinione e il resto è la mia opinione chiunque può pensarla in maniera differente ed è liberissimo di pensarla in maniera differente e anche di scriverlo in chat chiaramente può lasciare anche un discorso semplicemente magari in un altro contesto Watley e Inti si sono dello stesso rango oddio forse Watley è un po' più in alto perché è la poetessa guerriera però d'altro canto Inti è siniscalco più o meno sono dello stesso rango comunque magari ecco comunque la cosa di Caldaim se un venerdì pomeriggio volete discutere in live amabilmente sentitevi liberi tirare fuori l'argomento che io posso scaldarmi quanto volete ma il discorso rimane sempre su toni tranquilli e stiamo parlando sempre di un gioco di carte nessuno si ammazzerà per questa roba e anzi sentire più pulpiti aiuta anche a capire diverse cose magari mi fate anche cambiare idea la fede dell'impero del sole insegna ai suoi cittadini che sono i primi di tutto il the first of all people nel senso il popolo eletto in un certo senso creato dal sole tripartito per governare tutte le terre governate e toccate dalla sua luce per questo motivo di nuovo molto americana questa cosa per questo motivo l'intero continente di Ixalan è loro considerano l'intero continente di Ixalan la loro di loro proprietà il loro diritto di nascita in questa era post-firexiana le voci dominanti dell'impero del sole assicurano i cittadini che è finalmente giunto il momento per una alba imperiale che possa diffondere la gloria dell'impero in tutto il piano questo momento di trionfo verrà solo attraverso sarà reso tale solo attraverso il lavoro collettivo delle persone guidate dalla saggezza degli imperiali e colminerà con l'ascensione del loro imperatore bambino il loro sì quello dell'imperatore bambino sarà un trono che governerà l'intero mondo ma deve essere prima costruito nelle città e nei campi dell'impero mattone dopo mattone grano spiga dopo spiga e madonna ragazzi quanto è destino manifesto degli stati uniti statunitense trasuda statunitensismo da ogni poro ci manca solo uno che inizia a fare USA USA è ovviamente filosofia degli stati uniti e della storia degli stati uniti è quello che ha portato poi alla conquista del west se vogliamo quindi torniamo anche a collegarci con Thunder Junction che bello fare questi discorsi storici e filosofici partendo da magic non so a voi ma a me piace un sacco onestamente non so se a voi interessa sentirli spero di sì ecco in questo sono abbastanza più preparato la mitologia posso avere molte enormi lacune ma nella storia invece sono abbastanza preparato sufficientemente preparato quantomeno le città stato Pachatupa la capitale imperiale scusate aspettate un attimo orazca la Otepec gli alzo tanta roba molto bella però tanta roba e noi stiamo tecchialmente a due ore di live praticamente vabbè andiamo avanti con la prima delle città stato cioè Pachatupa vediamo quanto ci metto e poi erano già presenti nella prima X-Lon sì assolutamente nell'artbook di X-Lon venivano tutte citate ed è molto bella questa cosa perché si vede che gli autori della guida si sono studiati l'artbook artbook che trovate tradotto appunto in versione live così come sto facendo questa sera con la guida sul canale youtube cioè tutto esplorando X-Lon l'egittà stato quindi Pachatupa la capitale imperiale per la popolazione dell'impero del sole Pachatupa è il centro della civiltà dove tutte le strade conducono nonostante abbia perso la sua gloria dopo l'invasione Pachatupa non è più la capitale imperiale dell'impero del sole sebbene sia ancora immensamente importante in quanto la sua più popolosa e sviluppata città-stato situata in un luogo in un punto strategico dove le pianure della costa si innalzano per diventare alte montagne Pachatupa era la sede della dinastia imperiale dopo l'abbandono di Oratska secoli prima del tempo presente la città circonda e costruisce è un Bills to Tocatli ah diciamo la città è circondata da circonda si circonda e ha il suo centro in Tocatli che un tempo era la cittadella imperiale dove l'imperatore e i suoi più fidati consiglieri risiedevano per lo più i suoi parenti le fattorie le terrazze di Pachatupa i suoi titanici terrazze agricole diciamo non so come si chiamano esattamente i suoi titanici edifici di pietra la sua il suo diffuso sistema di irrigazione e le sue resistenti mura sono il testamento delle capacità ingegneristiche dell'impero del sole durante l'invasione questo monumento alla forza imperiale divenne divenne però un redout a un baluardo divenne un disperato baluardo un sacco di rifugiati da tutto l'impero raggiunsero quindi questo luogo e le esclusive e pulite strade di Pachatupa divennero campi di battaglia cosparsi d'olio firexiano e sangue con nobili e paesani che combattevano corpo a corpo spalla a spalla con le guardie dell'imperatore contro il nord firexiano lo sai io non mi ricordo ma mi sa che l'avevano scritto nell'artbook non so se è una leggenda se c'è una leggenda che lo racconta ma mi pare che semplicemente anticamente a un certo punto hanno capito come entrare in comunione con i dinosauri sicuramente c'è un video che ne parla forse uno dei primissimi inventando Ixalan scusa no inventando esplorando Ixalan tipo il numero due forse sicuramente se ne parla da qualche parte nell'artbook il come esatto e il quando esatto non lo sappiamo il come vago è probabilmente che hanno trovato il modo di entrare in comunione con loro e il quando appunto vagamente in tempi molto antichi anche perché poi a prescindere comunque gli old tech mi pare che anche loro abbiano loro dinosauri da cavalcare o no forse no forse mi sto sbagliando comunque gli sforzi dei difensori di Paciatupa permisero alla alla città di sopravvivere e quindi all'impero del sole di sfidare i firexiani e combattere i firexiani la cittadella imperiale Tocadli è un glorioso e fortificato palazzo nel cuore di Paciatupa il palazzo comprende molte ville nobiliari che appartengono alle varie relazioni dinastiche e alle varie dinastie diciamo di nobiliari e alle loro case diverse ai ricchi insomma ai ricchi nobili gli spaziosi terreni di Tocadli includono anche tre grandi templi ognuno devoto a uno degli aspetti del sole tripartito che sono rispettivamente chignalli tillona kinhalli credo kinhalli kinhalli tilonalli ed ixalli questo grande complesso era esclusivo solo per era poteva essere ci potevano entrare solo le più alte caste della nobiltà imperiale prima dell'invasione una si tratta effettivamente di una metropoli in cima a paciatupa dalla quale la gente comune era esclusa tuttavia durante l'invasione Tocadli è stata il centro degli sforzi imperiali degli sforzi delle guerre insomma per la difesa le sue piazze esclusive i suoi manieri sono stati aperti alla popolazione comune dell'impero del sole per necessità alcune persone non hanno dimenticato la ricchezza che è stata per così tanto tempo chiusa dietro le alte mure di Tocadli e oggi questo un tempo esclusivo complesso di palazzi è aperto sebbene con alcune restrizioni a tutte le persone formando quindi un simbolo dell'amore del nuovo imperatore per tutti i suoi cittadini rinforzato dalla volontà della popolazione che che la che gli imperatori che i consigli dell'imperatore cercano di placare in ogni modo diciamo è un è un contentino se vogliamo per evitare che ci siano rivolte all'interno dell'impero i nobili si sono resi conto che se non avessero aperto i loro templi alle caste inferiori queste si sarebbero probabilmente rivoltate e avrebbero fatto un casino quindi hanno deciso di tenerseli buoni e mi sa che comunque con paciatupa chiudiamo poi riprendiamo martedì prossimo dopo l'invasione paciatupa è molto più egalitaria di quanto fosse prima della guerra ma la sua bellezza è stata ridotta nei suoi giorni di gloria la capitale imperiale era il singolo asse sul quale tutto l'impero si muoveva il luogo dove le famiglie nobiliari mantenevano alcune delle loro proprietà in quanto la politica demandava la prossimità verso l'imperatore e dove i soldi diciamo delle tasse dei tributi e dei raccolti fiorivano cioè il luogo più ricco dove girava un sacco di sordi ok male 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 subito dopo l'invasione paciatupa è stato il primo luogo a essere ricostruito ma nonostante gli sforzi per ricostruire e pulire l'antica capitale ha perso molto della sua bellezza l'imperatore ha quindi spostato il suo trono a Oratska la prima capitale dell'impero del sole che oggi è stata riconquistata e perciò si è portato via il diciamo i satelliti del potere politico tutto ciò che ruotava intorno alla corte dell'imperatore le possenti mura di paciatupa e le sue dense strade sono infestate dai traumi dell'invasione e del terribile assedio che la città e la sua popolazione hanno sopportato se ci si trova a esplorare a girare per le strade di Tocatli quindi la cittadella in cima a Paciatupa oggigiorno si potrebbe ancora immaginare di trovarsi in un X saranno completamente non intaccato dai grandi cambiamenti al di fuori però del complesso della cittadella il tempo presente non si può sfuggire al tempo presente ormai la nobile grandezza degli imperi dei tributi imperiali e dei favori imperiali è partita per Oraska al suo posto una nuova ignobile popolazione ignobile nel senso non di sangue blu popolazione che pur rimanendo sottomessa a un distante imperatore vede se stessa come la padrona la 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 difensora e l'ultima l'effettiva erede di Paciatupa cioè le persone gli abitanti comuni il popolo di Paciatupa vede se stesso come il vero governatore della città Paciatupa è diciamo non indipendente ma si vedono gli abitanti paciatupani come gente molto più indipendentista si sono meritati di essere di avere tutto ciò che adesso hanno di essere in comando della città sebbene poi siano comunque soggetti all'autorità imperiale nel passato tutte le strade dell'impero del sole portavano a Paciatupa oggi la popolazione della ex capitale può guardare può guardarsi in ogni angolo e verso ognuno dei punti cardinali e scoprire come tutte le strade portino fuori da Paciatupa fuori dall'antica sede del potere imperiale in un mondo il cui futuro è stato riscritto dalla mano della popolazione comune dei mercanti degli artigiani dei plebei dei laboratori che hanno difeso la loro città e il loro impero da un nemico spaventoso la più oscura delle notti è finalmente finita Paciatupa non si è infranta l'alba che non è stata distrutta non si è spezzata l'alba che verrà sarà solo l'alba che nascerà dopo queste terribie notte in cui appunto Paciatupa non è stata spezzata notte metaforiche in questo caso e alba metaforica brillerà anche sulla popolazione di Paciatupa quindi insomma una rivoluzione se vogliamo una rivoluzione pacifica Baclatsotz Baclatsotz aspetta chi è Baclats Aclatsotz dici D.O.P. Pistrello chi è Baclatsotz forse me lo sono perso io forse era un nome di commander Baclats chi è Baclatsotz Peaceful provo a cercarlo a lore finder magari è citato da qualche parte no ma intendi Aclatsotz il Aclatsotz sì il dio più visti ah ok il dio no no il dio più visti lo ha tutta un'altra lore no assolutamente Aclatsotz è molto più antico del popolo di Ixhan e in più è nato nel nucleo per farla breve poi lo vedremo tra qualche settimana lui era era l'ultimo sopravvissuto all'apocalisse diciamo del del precedente della precedente popolazione del nucleo i predecessori degli Oltec quindi il quarto popolo lui ha portato alla fine di questo quarto popolo è sopravvissuto per vedere l'alba del quinto popolo e però vuole portare anche alla fine del quinto popolo per distruggere per creare una sesta era in cui lui dominerà incontrastato e la morte sarà sconfitta e beh non male lui dominerà incontrastato e darà l'immortalità a tutti spezzando in un certo senso questo ciclo di morte e reincarnazione però non gli è riuscita bene la cosa ancora oggi era rinchiuso all'interno del nucleo poi Vitor l'ha liberato e chissà cosa succederà il suo piano però è effettivamente quello di portare un'altra apocalisse e distruggere il mondo per riforgiarlo in maniera tale che sia a sua immagine e somiglianza se vogliamo però no assolutamente non ha niente a che fare con il popolo della superficie per il momento i popolani di Ixham di cui stiamo parlando sono appunto solamente persone comuni come me o te gente che non ha nessun titolo nobiliare ma che ha vissuto tutta la vita nell'impero del sole in superficie di nuovo per ora il nucleo non è stato neanche accennato sebbene poi nella lore sappiamo che è stato accennato la guida ne parlerà più tardi è stato esplorato e tutto quanto per ora in questo momento la guida si sta riferendo solamente alla superficie alla superficie del piano e appunto alla situazione politica all'interno dell'impero del sole io direi che la prossima settimana ci spariamo sicuramente le altre tre città a stato quindi Azzocan che fa sempre riderissimo Orazca e Otepec poi vediamo gli araldi del fiume come sono sopravvissuti all'invasione firexiana e penso forse cominceremo a parlare della coalizione d'imbronzo non è detto non è detto vediamo fate conto che noi ci abbiamo messo un'ora e sei con il discorso pure interrotto da il mio sfogo su Kaldheim il mio trigger su Kaldheim non è un'altra brutta è start vabbè delle città eh adesso non me la ricordo precisamente oddio forse c'era la mappa aspetta map of Y Oratska è sicuramente verso ovest perché in teoria è nell'entroterra nell'entroterra esattamente allora a memoria non me la ricordo assolutamente com'è fatta però c'è la mappa forse nella mappa si vede ora la mostro anche a schermo perché di Yxalan abbiamo la mappa ufficiale grazie al cielo che bello era Yxalan eccola qua magari un po' di zoom ok Oratska è verso il centro Oratska eccola aspettate che perché non si muove si muove solo su e giù e non anche a destra e sinistra oddio mio che sta che cazzo allora oh scusa ho capito except all oddio mio non mi oddio mio che palle xalan mtg map mtg map oh che cazzo vediamo se riesco a farla vedere oddio oh forse adesso ci riusciamo allora sì Oratska è a nord ovest paciatupa è ancor più a nord a verso est verso le coste azokan è meno male al centro sempre ad est e otepec è a sud no su crepsydra no su indistad credo di sì credo ah guarda c'è anche il tempio di akraz me l'ho dimenticato quindi diciamo Oratska è a ovest paciatupa è a nord azokan è a est anzi sì e optepec a sud all'incirca poi diciamo più o meno questa roba in realtà non so neanche se su xran si trova su indistad si trova probabilmente sì qualcuno la pubblicò all'epoca effettivamente una bella la mappa potrebbe questa sicuramente me la salvo la mappa perché non si sa mai in futuro nella città delle ombre sicuramente si troverà di quello che fanno in discoteca no su indistad no mica no gli off topic in realtà indistad è sempre stato abbastanza l'ho sempre regolato molto bene da quel punto di vista xran non è mai stato un off topic center diciamo tutto all'interno di indistad era legato a ok ho fatto una cosa legata a magic ragazzi c'è questa cosa l'ho fatto legata a magic litigai con una persona con un mio amico perché lui voleva pubblicare in indistad il il concorso aveva scritto un libro voleva partecipare a un concorso voleva pubblicare appunto il link per votare a questo concorso io gli dissi no perché è off topic non c'entra un cazzo non è un libro di magic litigammo poi alla fine riuscì a far cioè il compromesso che volevo era che lui scrivesse un post legato alla lord di magic e alla fine alla fine del post poteva pure fare l'off topic però per un paio di discorsi per cui non ci prendemmo benissimo non ci capimmo benissimo io credo ci fu comunque della diatriba e alla fine litighiamo per questo motivo quindi no in istrad non c'è assolutamente non è assolutamente mai stato off topic è sempre stato in topic da quel punto di vista è sempre stato super in topic nessuno ha mai scritto ah no è che io oggi mi sono fatto una pizza alla carbonara ok che c'entra con magic se non c'entrava niente con magic io gli scrivevo guarda si non per cattiveria magari il post te lo tengo però evita di farli cioè amico mio di quello che hai mangiato ieri sera a pranzo non gliene frega niente a nessuno gli scrivevo non gliene frega niente a nessuno con tutta la buona ma non è però cerca di fare post in tema allora devo anche facerci so per se mi mette al post se c'entra sì allora no quello no quello è diverso quello è diverso perché la gente che bannata perché metteva cose che non riguardavano magic è letteralmente gli spam ho bannato gli spammatori cioè i bot quelli che ti mettono i link porno che ah guarda qui donne vogliose a 50 km da te uomini con un cazzo enorme a 2 minuti da te questa roba così no quello non c'entra niente ti banno direttamente perché non sei la persona azzo che ha anche dettagli in app sì in realtà secondo me ci può pure stare con un personaggio sai Doc Giga secondo me ci può stare perché Azor non ha voglia di esplorare Azor è la neutralità tra virgolette è il menefreghismo puro c'è un nuovo piano c'è bello Ixalan che persone ci vivono su Ixalan non me ne può frega di meno cioè Azor non ha mai abbandonato il tempio di Oras cioè si è fatto sigillare dentro Orasca ha detto sì sì venite venite cos'è che volete fare chiudere il sole immortale sotto Orasca ah va benissimo ma certo va benissimo riempite Orasca di piante va benissimo sommergete va benissimo io però devo stare dentro è tipo l'Ikikomori oltre ogni livello l'Ikikomori di Magic è il è quello che decide ok io da oggi chiudo i contatti col mondo esterno quindi secondo me ci sta non è proprio un buco di trama che Azor non abbia esplorato il nucleo peraltro in realtà non è detto che non abbia esplorato il nucleo al di là del fatto che poi era chiuso comunque sì in realtà poi ora che ci penso è vero era comunque chiuso certo lui non era neanche più un planeswalker era comunque chiuso con i vari tutti gli ingressi erano chiusi serviva o il sacrificio del serguace di Aklazots per aprire il tempio di Aklazots oppure serviva di risolvere l'enigma della porta di Orasca oppure serviva di passare per giù sotto la cosa del micotiranno sì 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 assolutamente ovviamente all'epoca non ci aveva neanche pensato però sì ti dirò Doc Giga in realtà secondo me è comunque molto ben curata a Orasca non è che vigia la dittatura da parte di Azor non c'era nessuno a parte Azor i dinosauri vabbè gli elder dinosaur sto d'accordo che una cura maggiore la continuità non schifo non farebbe però in realtà queste sono un po' anche piccolezze secondo me ci starebbe un Flavortex in cui ci dicono tipo Azor che dice ah il nucleo di Innistad sti cazzi non mi è mai interessato i miei problemi erano altrove però comunque tu ci puoi arrivare ragionando su come è scritto il personaggio su quello che ha fatto il personaggio e come è stato presentato nel primo Ixalan e se pensi poi agli Azorius tu pensi agli Azorius di Ravnica che vanno a esplorare qualcosa di strano qualcosa che non è sotto la loro giustizia perché viene chiamato tiranno Azor era stato chiamato tiranno forse per il fatto che era comunque una persona che tendeva verso la no no si lo so cos'è un tiranno assolutamente però penso che fosse no ma non mi era chiamato il tiranno Azor scusa è il dispensatore di legge e com'è nel tiranno kumena no è un'altra cosa kumena è un'altra cosa kumena diventa il tiranno di Oratska perché lui voleva conquistare Oratska l'abbiamo detto prima c'era stata la corsa verso Oratska lui è il primo ad arrivare e poi finisce defenestrato e decide ok da adesso in poi io dominerò su tutta Ixalan su tutto il continente di Ixalan Oratska sarà la mia capitale e io diventerò il tiranno il tiranno il tiranno perché io dominerò col pugno di ferro tutta Ixalan ok quindi sì lui voleva diciamo imporre una dittatura sull'Ixalan poi sono arrivati gli altri e lui è stato defenestrato dopo dieci minuti perché era una pippa kumena però ricordiamoci quanto è durata la tirannia di kumena è stata letteralmente potere illevitato illevitato potere boom defenestrato fuori via dalla finestra sono arrivati chi era Santa Elenda mi pare e Mavrenfein forse proprio Watley e Tishana comunque arrivano gli altri e lui viene sbattuto fuori dalla porta in maniera terribilmente comica poi Azor sì ce l'aveva comunque l'aria da tiranno ce l'aveva più che da tiranno era meno fregrista cioè il fatto che lui arriva Jace che gli dice no perché sai le gilde tu hai creato il sistema delle gilde ma bello è tutto quanto è bello però ti sei perso alcuni passaggi non è che hai proprio pensato al benessere di Ravnica eh ma io l'ho fatto pensando che Ravnica sarebbe stata bene sì ma i cittadini hai creato un sistema di leggi un pochino troppo esagerato c'è questa cosa questa cosa del patto delle gilde vivente lì per esempio con timidi ha fatto un po' cilecchia cioè di fatto Azor è lo stesso coglione che ha fatto in modo di se ci pensiamo è lo stesso coglione che ha scritto il patto delle gilde e nel patto delle gilde patto magico vincolato ha scritto i dimir devono il ruolo della gilda dimir è di opporsi al patto delle gilde cercare di distruggerlo in ogni modo ok perfetto quindi opponendosi al patto delle gilde distruggendo cercando di distruggere il patto delle gilde i dimir stanno agendo per conto del patto delle gilde in realtà lo stanno solo rafforzando però per qualche motivo non ha pensato che questa cosa potesse essere sfruttata per distruggere il patto quindi nel momento in cui tu infrange il patto si crea quello che è successo nella prima rapnica ossia zadek che infrange il patto i dimir seguendo le regole del patto distruggono il patto e allora sei un coglione e allora sei un idiota sei un cazzo di planeswalker ma sei un idiota tutta la storia di azor ruota al suo essere un imbecille è vero che con l'ingiliente con l'ego smisato però ho sempre parlato vraska si assolutamente d'accordissimo un doc giga effettivamente una delle pecche di xlan 1 è il fatto che appunto azor viene viene dipinto come quello che ha distrutto ravnica le gilde hanno per carità dal punto di vista di vraska ha anche senso perché vraska in quel momento ancora era legata all'idea di belli golgari però l'idea delle gilde mi sta un po' sul cazzo venivamo ancora dal racconto di jace versus vraska in cui lei ammazzava gente che faceva parte di diverse gilde per mandare un messaggio contro il patto delle gilde no vabbè insensati no insensato no non era insensato azor no no assolutamente era un bel scritto comunque però chiaramente vraska io capisco il suo astio soprattutto nei confronti degli azorius però effettivamente esagena nelle sue accuse sono d'accordo su quello estremamente ingiusta però per lì in realtà nel racconto ci sta cioè è giusto che sia ingiusta lo so che mi sembra che sto facendo una difesa oltranza però è giusto che sia ingiusta perché dal punto di vista di vraska è il punto di vista di una che proprio ce l'ha a morte col patto del gilde e con gli azorius per vraska che ravnica sia praticamente in macerie agli occhi di vraska è così per vraska è così ravnica starebbe molto meglio senza patto del gilde senza se azor non avesse fatto il patto del gilde ravnica ma voglia sarebbe la dominata di golgari starebbero bellissimo vivrebbero in case piene d'oro per vraska la verità è che vraska ha delle idee un po' così non è che il patto delle gilde in realtà per 10.000 anni ha portato stabilità e ancora adesso comunque le gilde sebbene con diverse cioè ha diverse storture il patto delle gilde siamo d'accordo però di fatto i pro sono maggiori dei contro no ce l'ha di solito con gli azorius vraska perché gli azorius rappresentano il potere assoluto e dominatore di ravnica e lei ce l'ha appunto con chi commette i sopprusi ogni tanto pure con i boros ma per lo più con gli azorius quindi in realtà sono d'accordo sul fatto che siano genetamente ingiuste però ci sta che sia proprio vraska capito in realtà non stiamo parlando di una persona che ha tutto il contesto del 10.000 anni di gilde è una persona che ha delle sue idee quindi è giusto che sia così esagerata vogliamo parlare della cazzata più grande di xlan il vero problema di xlan è come risolvono la situazione della memoria di jace bellissimo il fatto che poi vraska viaggia nei suoi ricordi e grazie a questo viaggio nei ricordi diventi ancora più dentro e lui alla fine anziché quando jace recupera i ricordi anziché andare contro vraska rimane suo amico e suo poi molto più che amico cioè effettivamente il rapporto che si era costruito in xlan 1 nel primo set i rivali di xlan si mantiene e matura bellissimo ma vogliamo parlare del fatto che jace recupera la memoria sbattendo la testa contro un sasso cosa perché mi hai creato un rapporto bellissimo tra vraska e jace stupendo va bene ci sta anche il fatto che vraska accusi l'iana di essere un mostro assoluto e orribile per come ha trattato jace perché vraska appunto ce l'ha questa cosa di giudicare gli altri molto pesantemente molto basandosi su pregiudizi anche però santo cielo ma veramente il mistico sasso di oraska santo cielo il sasso magico con susan dork su veramente gli anni a sparare cazzate sul mistico sasso di oraska il mitico sasso che fa recuperare la memoria ai jace veramente era quelli sono i veri problemi porca puttana poi per carità me lo faccio andare bene perché nel contesto la storia è molto bella comunque una storia molto bella pur con scivoloni di questo tipo dici vabbè c'è sta sta cosa vabbè facciamocelo andare bene chiudo gli occhi prendo un bel respiro e via un conto è quando l'intera storia è questi scivoloni e ogni tanto c'è un colpo di genere è un qualcosa di interessante tipo dominoria o world spark quello proprio non lo sopporto onestamente veramente inaccettabile uno scivolone ogni tanto e vabbè se lo famo andare bene non c'avevano idee magari diventava troppo complicato però è il sasso di oraska veramente mamma mia mamma mia che cazzata che cazzata a distanza di quanto 5 6 quasi 6 6 anni ancora una delle più grandi puttanate della storia di magic si capito corte quanto il soldato senza nome di zalfir che mi shotta vol esattamente capito stiamo stiamo lì è un po pigrizia narrativa anche se guarda perdono di più il sasso che fare con il sasso magico di jace che mi aspetto prima o poi sia una carta in wolderlo in rison 3 io voglio la carta sasso magico di oraska ti rimescolo il cimitero nel grimorio roba del genere voglio quello lo giustifico di più quello che il soldato che shotta vor in clax guarda perché un conto può uscire il fatto dei ricordi di jace era effettivamente una roba che avevi in mano era molto complessa non hai saputo gestirla fino in fondo però hai fatto un buon lavoro tutto sommato con quello che ti hanno dato sei solo scivolata lì non sapevi come andare a creare la situazione vabbè buttiamoci sta cazzata volingles che viene shottato è una lunga serie di stronzate che si accumulano è proprio vabbè non c'ho voglia voring krex si vabbè lo fa morire basta ma lo devo proprio scrivere che muore sì vabbè scriviamo che muore voring krex come muore voring krex vabbè lo ammazza un soldato di zalfir bene passiamo alla prossima storia va probabilmente anche a causa io credo del fatto che gli abbiano messo a all'autrice una una roba un peso addosso incredibile il fatto che sia raccontato in dieci racconti non so se sia stata Marshall The Machine se sia stata proprio ottima come cosa magari ne servivano undici o forse nove però vabbè a parte le side stories chiaramente ma ne abbiamo parlato comunque di venti mille venti divisi in due espansioni sì ci voleva sicuramente più espansioni siamo sinceri ma ne abbiamo parlato comunque quando ho fatto la live sul 2023 purtroppo è un grande Marshall The Machine All Will Be One sono un grande peccato potevi fare una roba fighissima è uscita una roba un po' mediocrina vabbè speriamo in bene comunque no cioè devo dire che tutto sommato Murderous Carle of Manor devo dire che un pochino comunque si è ripreso i venti e venti sì tutto sommato si è ripreso dai non è una brutta storia non è neanche sto capolavoro chiaramente rispetto a quello che dicevamo l'altro giorno l'altra sera della guerra dei fratelli è una merda rispetto alla guerra dei fratelli sì esatto dovrebbe essere durata mesi nella storia sembra due giorni lì pure c'è un problema proprio di come racconti il focus cosa succede quanto succede è tutto troppo affrettato anche nelle side lì però il problema secondo me è più nelle side stories è anche nelle principali ma perlopiù nelle side stories perché erano le side stories che dovevano darti l'idea di finisce tutto cioè tutto succede in tanto tempo le storie principali ci stava che in realtà non ci stava l'inizio se tu sal dovevano tagliare l'inizio e partire in medias res quindi Chandra e Vren arrivano su Nuova Firexia e iniziano a fare danni sono passati tre mesi dall'inizio dell'invasione sono passati sei mesi sono passati quello che è passato e iniziano a fare danni nel frattempo c'è Urabrask nel frattempo ci sono i Mirran che non è che stanno lì nel Sidcor che sono stati lì ad aspettare con l'orologio come se stessero aspettando l'autobus hanno fatto le loro cose è passato del tempo però poi ci stava che mi raccontavi tutto quanto la trafila per sconfiggere Firexiani nel corso di una sola giornata una lunga giornata dei combattimenti tra Chandra Nissa ci stava una sola giornata per l'atto finale e nelle magic stories nelle side stories mi raccontavi invece mese dopo mese dopo mese quello che succedeva all'interno dei vari mondi di magic un po' come hanno fatto per esempio con la side story di X-Lan dove effettivamente si percepisce che ti stanno raccontando un evento breve che dura poco ma la marcia è iniziata da molto più tempo ti hanno detto che all'inizio sono arrivati via mare poi hanno attaccato la capitale poi Wadley ha fatto delle cose poi c'è stata l'alleanza con i vampiri e poi sono andati a Oratska ti fanno percepire l'autore che c'è stato un pregresso mentre per esempio se prendi la side story di Gisa e Geralf che sono personaggi che io in teoria adoro ma che lì sicuramente fanno schifo l'attacco dei firexiani dura quanto? un giorno? ma nemmeno cioè 12 ore mezza giornata la mattina stanno lì che fanno il loro solito necrowarfare arrivano i firexiani verso le 10 le 11 di mattina alle 7 8 di sera ora di cena si va tutti a casa e fine i firexiani sono stati sfitti sembra un po' quello i coria pure c'è c'è lì anche un po' di pregresso sul fatto che Luca abbia distrutto Drannit però sembra 5 minuti un'ora fa Luca ha distrutto Drannit e dopo un'ora i sopravvissuti hanno raggiunto più o meno la pabrik la pabrik brink si brink ce l'abbiamo pure fatto esplorando i cori a francese svegliati quindi insomma è stata una roba che tornare all'azzo sarebbe bello se in altre espansioni su uno dei piani ci fossero recettazioni si assolutamente sull'antica influenza di lui o di altri roll walker di cui hanno plasmato il piano d'accordissimo quello mi piacerebbe tanto che dici ti leggerai tranquillamente a supervisore del fratex the wizard grazie magari magari pissul magari non sai quanto mi piacerebbe piacere lavorare all'alordine magic no comunque si la cosa degli old walker si piacerebbe tanto anche a me il fatto che ci siano influenze di questi planeswalker antichi al di là di espansioni dedicate apposta quindi appunto il bolas che crea su amoncat la sua macchina e anche anche io la citazione a guff ci stava al mitico commodoro infatti in effetti no quella è proprio una cosa che tu dice ma perché per carità il commodoro guff è praticamente un meme l'autore l'ha inserito come inner joke praticamente però si con il biblioplex era l'occasione per renderlo invece un personaggio serio dici che commodoro guff ha ispirato la fondazione di strict 7 i draghi antichi il biblioplex era per un certo periodo curato da commodoro guff o guff che dir si voglia grandissimo commodoro guff l'unico in grado secondo lui poi tecnicamente tecnicamente non abbiamo prove che quello che dice sia vero del fatto che lui poteva cambiare la storia semplicemente scrivello su un libro Yogmoth perde un grande commodoro un grande vecchio pazzo ma infatti comunque sì questa cosa degli old walker si sente poco al di là di certi viani specifici e un po' sì esatto lo si ama e basta un po' si sente poco e un po' si sente cioè appunto è come se fosse appunto dedicata solo alcuni piani hanno avuto un'influenza ecco in questo devo dire che la cosa del in parte premio per come è stata raccontata no ma premio l'idea alla base di Elspeth Arcangelo ossia il fatto che abbia a che fare con Serra e quindi su più mondi in realtà c'è un'influenza di Serra perché lei è di Capenna vecchia Capenna peraltro cioè lei Elspeth dico Serra non oddio Serra non so io non mi ricordo se è mai stata confermata se era originaria di Dominaria Serra oddio non c'è il dubbio c'è 99% si era di Dominaria però non c'è il dubbio comunque oddio io ragazzuoli io però qui vi saluto che è stata sono state due belle live ma si è fatta anche mezzanotte e 7 e vado a sognare il commodoro goof che mi sveglia la notte e mi dice dobbiamo partire all'avventura per salvare il multiverso e riscrivere la lordi magic da capo vi ricordo gli appuntamenti della settimana sono dopo domani giovedì domani niente live come sempre giovedì 16.30 facciamo Inventando Zenicar 2 il tempo presente arriveremo quindi fino a Marshall The Machine forse oltre no però più o meno in quel periodo lì forse anche oltre vedremo magari col personaggio vampiro potrebbe essere interessante 16.30 giovedì 16.30 venerdì poi invece di nuovo si ricontinua la lettura della guerra dei fratelli e poi la seconda parte della live si dedica alle chiacchiere in libertà un'ora e mezza e passa anche due ore volendo finché ce la faccio io di chiacchiere in live volentierissimo con chi ci sarà come abbiamo fatto anche stasera stasera chiaramente lo spazio che ho dedicato è stata questa ultima più o meno mezz'oretta ma mi ha fatto comunque piacere assolutamente questo scambio con DocGiga mi ha fatto piacere anche lo scambio prima con Peaceful tutte le domande di Peaceful e la questione di Caldheim e insomma apprezzo sempre vedere attività in chat quindi continuate così bravi ragazzi bravi discepoli ci vediamo quindi giovedì alle 16.30 io vi auguro una buona necroserata una buona necronotte probabilmente e sognate anche voi il Commodore Goof che vi entra nel letto completamente nudo e fa l'amore con voi e con la Lordi Magic buona notte a tutti con questa meravigliosa immagine che vi provocherà gli incubi peggiori di quelli che potrebbero provocarvi Ashok grazie a tutti